Siamo Bicelli e Gabriella Genisi, secondo ciclo con una nuova protagonista che è Chicca Lopez, come mai questo cambiamento anche di setting visto che questi romanzi sono ambientati in Salento? È vero, è Salento però è sempre Puglia, quindi mi occupo molto di romanzi ambientati sul territorio e avevo necessità dopo sette libri della commissaria Italo Bosco di allontanarmi un pochino dal personaggio e quindi ho immaginato un'altra investigatrice, un'ambientazione diversa e quindi Salento anziché Puglia e anziché Bari. Anche la protagonista comunque è molto diversa come caratterizzazione rispetto alla Lolita Lobosco, quale delle due le somiglia di più? Probabilmente di più Lolita ma perché è barese e quindi anche io mi muovo in quel territorio per cui creo protagoniste che assomigliano agli ambienti, per cui Lolita è barese invece Chicca Lopez è un pochino più cupa e solare al tempo stesso e assomiglia molto al suo territorio.